Benvenuti a Zoom, l'approfondimento a cura della redazione giornalistica di Sesta Reti. Alla sua terza edizione My Factory è il progetto espositivo di Pitti Immagine dedicato agli stilisti emergenti nati nel territorio dove convergono moda, scultura giovanile, musica grafica e new media. Una community che ha come parole chiave ricerca, eclettismo ed ecosostenibilità. My Factory esprime un segmento commerciale legato alla cultura metropolitana oggi. 57 collezioni e capsule realizzate da giovani creativi e prodotti da brand internazionali che si presentano al pubblico attraverso negozi di tendenza e vendite online. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! My Factory ha preso posto negli spazi del piano terra del primo e secondo piano del Liceum con un innovativo concept di allestimento ideato dall'architetto Oliviero Baldini che per questa occasione mixerà l'impiego di oggetti e materiali di recupero al gioco di riflessi e all'effetto decorativo delle paillette. Grazie a tutti! 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 Grazie per la visione 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 Grazie per la visione